Qual è la cosa più importante, la prima sfida da affrontare a partire dal 26 settembre? La nostra sfida più importante dal 26 settembre, ed è il primo contributo che abbiamo dato, è di mettere nel programma della coalizione di centrodestra il tema dell'educazione, della scuola e della formazione e dell'alleanza tra scuola e lavoro. È l'elemento più importante, il modo con cui abbiamo trattato i nostri insegnanti in questi 20 anni, 30 anni, dice dell'importanza che abbiamo dato alla scuola, il tema della libertà di educazione e della scelta dei genitori e quindi delle scuole paritarie, il tema di una grande autonomia vera scolastica per tutti gli istituti. Questo è il pilastro fondamentale, il secondo è l'alleanza scuola-lavoro contro l'assistenzialismo che ha visto ad oggi aiutare chi è più indietro facendogli semplicemente la carità di Stato.